Seconda maturità in tempo di covid, mercoledì 16 giugno, inizieranno anche all'Aquila gli esami di maturità. In Italia ci sono 540.000 studenti coinvolti, 10.900 in Abruzzo con 10.600 candidati interni e 300 esterni. Molti studenti si sono vaccinati in vista dell'esame che sarà più snello ma in presenza con una prova orale che parte da un elaborato assegnato dal Consiglio di classe. Per gli studenti delle superiori ci si appresta a chiudere con l'esame un anno complicatissimo nel quale sono quasi sempre stati a casa con la didattica a distanza salvo brevi periodi. Gli istituti superiori Aquilani e le commissioni sono pronti con sanificazione in corso e percorsi speciali di ingresso e uscita. Del resto c'è un protocollo nazionale che impone oltre alla mascherina anche due metri da candidato e commissione con la possibilità di un solo accompagnatore. Nei ragazzi c'è un mix di speranza e voglia di gettarsi questo periodo durissimo alle spalle, incertezza e un po' di tumore ma anche necessità di scrivere un futuro diverso con le idee già chiare per ciò che si vorrà fare più in là. Quest'anno diciamo è sicuramente l'anno più difficile per eccellenza per noi che dobbiamo affrontare questi esami di Stato. Sono stati mesi caratterizzati dalle incertezze, da una TAD che non ha raggiunto proprio al 100% tutti i ragazzi. Tra i problemi che noi ben conosciamo, quindi le connessioni, la mancanza di attrezzature, ma anche il bisogno psicologico perché un conto è confrontarsi con i compagni dal vivo in classe e un conto su un computer appunto davanti a una tastiera. Sarà sicuramente una prova difficile. Che non passi il messaggio che i maturanti del 2021 siano meglio preparati. I vaccini secondo me sono state una cosa utilissima anche per i maturanti perché poi sono gli stessi maturanti che andranno a vivere un'estate da ragazzo di 18-19 anni, quindi sono stati utili doppiamente. E il futuro, per quanto riguarda il futuro, io diciamo ho le idee abbastanza chiare. Cioè da mesi mi sto preparando per non solo per l'esame di Stato ma anche per per entrare in polizia e una volta entrato in polizia penso di iscrivermi all'università di giurisprudenza appunto per per fare carriera all'interno all'interno del corpo. Grazie a tutti.